signori ci spostiamo cortesemente grazie per il metrato due trelle no, molti nuovi eh sì, tra abbinere, protezione civile sì, però io non ho capito perché le ambulanze vanno verso là se volete ripigliare da qua, scusa non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito c'è una stradella che vi saio, avete capito? c'è sull'albere, avete ragione, quindi è meglio dell'albere scusate, mi pensavo che era meglio no, non mi preoccupate maestro grazie grazie Poi facciamo una cosa, io come mi sveglio ti faccio un cosco di telefono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.